Come un addestramento. Mi stai mettendo alla prova, lo so. Non è una simulazione. È reale. Hai sentito il dottore? La foresta ghiacciata non è reale. Era soltanto un modo per calmare i pazienti. Per controllarli. State cercando qualcosa che non esiste. Credo di sapere dove siamo. Che sta succedendo? E quello che cazzo è? Sara, quei mostri vogliono ucciderci! Che cazzo! Che cazzo! Che cazzo! Grazie.